Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questi nuovi video Oggi siamo qui ragazzi su Battlefield 5 Posso averlo solo io ragazzi questo gioco perchè io sono un figo no sto scherzando Siamo su Black Ops 3 ragazzi Su Call of Duty Black Ops 3 Ragazzi oggi Allora da come sentite dalla voce sto registrando sempre il microfono e il telefono Perchè non ho ancora il microfono che non l'ho ancora ordinato Ma in settimana prossima lo farò arrivare Quindi ragazzi oggi cosa facciamo? Ci facciamo una bella partitina in zombie sempre se cerca qualcuno Intanto voglio dirvi ragazzi che il multiplayer per il momento non lo faccio perchè ha un sacco di problemi Veramente ragazzi da come vedete qui le opzioni grafiche come l'ho messe eccole qui Da come vedete che ce l'ho qui In multiplayer praticamente si riduce tutto quanto Non so perchè si riduce La qualità sembra come se il texto le avessi messe basse Ma fa veramente schifo Il multiplayer Oh meno male ha trovato qualcuno subito E non so perchè succede così Comunque voglio ringraziare una persona che mi aveva trovato su zombie qui Ci sono rimasto molto contento che mi aveva trovato perchè non pensavo che qualcuno mi trovasse su black ops E spero di trovare anche altre persone E vediamo Sperando sempre che non si scolleghino Ma perchè vi scollegate? Ma siete stronzi però Speriamo non si scollega pure questo E se diciamo durerebbe poco la partita Attacco il joystick perchè con mouse e tassiera Sono abbastanza migliorato Ma ho i comandi che non riesco a giocarci Ecco benissimo perfettamente come il joystick Allora speriamo che non si scollega ragazzi Perchè a giocare con questo gioco è veramente impossibile Oh si è connesso subito ce l'ha fatta Ok Allora dovremmo sparare a quello lì per arrivare al livello 15 subito Però sarebbe una cosa molto difficile Vedete le texture prima che caricano ci vuole un... troppo Allora La fregna Allora Poi vediamo un po' Ecco mi fai uccidere qualcuno a me? Che cazzo ha fatto questo? Vabbè io ritorno alle sembianze umane Allora intanto Allaggiano per la porta buono Vediamo questi No sta a livello bassissimo Questi questi manco saranno a giocare Vediamo quanto arriviamo In testa Ok Qui vanno 500 e qualcosa Sto registrando ragazzi con fraps Perchè con OBS mi dava un sacco di problemi Il gioco anche se mi va a 60 fps Registrando con OBS Il video finale lagga non so perché Oh cazzo questi Poi soprattutto se Con questi server ragazzi Meno male che No io sono quello che ha il ping più alto di tutti Non so perché Se vede tipo qualche cadutina di lag E' perchè Sono questi server che fanno veramente schifo Aspettate ma qui c'era all'istante mi pare Il denaro non mi interessa Sì eccolo qui Ehm vabbè Usiamolo quando Quando siamo arrivati al terzo round Al terzo round Perchè adesso è inutile Usarlo Qui no non mi serve Ehm Oh ma io non trovo nessuno Soltanto invocando la bestia Si ovviene ciò che è necessario Allora 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 Ehm Ma ragazzi Io non riesco mai a trovare nessuno zombie Non so perché tutti quanti sparano Vedo che fanno tutti i punti Però lì Non mi sa Non posso nemmeno andarci Perchè Left one zombie Che cazzo Ten ritual Ma quelli vanno a fare il rituale Guardate ragazzi Un easter egg Ehm Lo scudo di Capitano America Io penso che erano zombie adesso Ehm Pieno calco Che cazzo vai a fare là sopra Scemo Ehm Ecco fatto Il rituale È inizio Allora Posso andarmi a comprare il rituale a pompa Guardate quello già è morto Che cazzo Oh All'istante Vabbè All'istante Niente avvertimenti Passo direttamente all'eliminazione Bravo Sono riuscito Sono riuscito ad arrivare ragazzi Fino al round Minimo Perché Ehm Ehm Non sono abile su zombie Ci sto giocando adesso Perché su play 4 Ci giocavo solamente multiplayer Quando non avevo problemi Ehm Allora Qui ho dato la corrente Lassopra stanno facendo un macello Fa me andare a vedere Oddio che è successo Ok Arrivò io Risolvo tutti i problemi Quello che ci Fa livellare Ehm Ormai Ragazzi Qui Forse farò un giorno Un video Con Con questo trucco Come livellare più velocemente Ehm Però tanti non capiscono Come si livella Cioè infatti A volte sparo E la gente mi dice Ma che cazzo spari a falla Perché siete coglioni Ehm Ehm Oh ma E' possibile Senti Mosego qualcuno qua Perché E' possibile Io non trovo nessuno Ma io dico Aprite quella porta Lì Madonna ragazzi Quanto laga Questa Oh Vediamo un po' Vediamo un po' Che mi da Che mi da Che mi da Dai Sul meglio Che niente Oh eccolo qua Però io voglio più La pompa del momento Oddio Che cazzo Che razza di bomba Mi hanno sorpreso Con la guardia abbassata Oh Lag Lag di merda Oddio ragazzi Quanto bingo 149 Oh mio dio All'istante 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 Qua un culo Madonna ragazzi Potete capire Come gioco io Online Ecco Ehm Non faccio Single player C'è Zombie da solo Perché Non vivrei Ecco Dove sono Brucci schiposi Dai 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 Batta batta Vaffanculo Oh No Che cosa ha fatto Ho sprecato una granata Una granita al limone No qua sono finite le caramelle Vediamo un po' se mi danno Qualche altra cosa Dovrebbe darmi qualcosa di bello Ehm No Non la voglio Che è via della dose Ce la fai Ehm Non la voglio ragazzi Perché è un razzo Se mi finiscono Quest'altra qui Vabbè che non ce n'ho 450 Però Non voglio Oh questo punto della map Ci sono mai andato Uh la palestra Oddio Non l'avevo visto Chi sei John Rambo Che non mori mai Oh Ma ti sparo in testa Non è che c'è Rocky Qua dietro no Siamo in palestra C'è Una cosa di bugiri Quindi Ehm Rocky Balboa Dove sei Solo Bisogna rianimarlo Che cazzo hai fatto Lagfuck 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 Almeno mi spamma qualche zombie dietro Tutti di pezzo di merda Amo tutti su di me Oh Aiuto Oddio Guarda quanti ce ne sono No Eh no Mi hanno fatto fuori Ma tutti su di me stanno E vaffanculo Quanto è durato il video 12 minuti Dai ragazzi Posso farne un altro Su Questa volta attacco il joystick Ragazzi Perché Se no non ce la faccio Ehm Sì Eh no Eh però Cazzo Stanno tutti su di me Poi già io ho una connessione No la connessione Già a me Va la cazzo Con i server Eh che palle Sperando che non si scollega nessuno Eh Allora Siamo Ok Da come potete vedere Ragazzi Appaiono anche i comandi Della play 4 Guardate Triangolo Guardato Cerchio X Option Dai Come on Che ho fatto No Adesso devo ricercare Un'altra partita No Oh no Zitti Zitti L'ha trovata subito Sì L'ha trovata subito Ragazzi L'ha trovata subito Meno male Meno male Meno male Allora Adesso ragazzi Gioco con il joystick Quindi dovrei giocare Molto meglio Ok Ok Come on Come on Come on Io provo a sparare A quel coso lì Che è sopra Al coso Vediamo se livella Ma dovremmo stare Tutti insieme A sparare Quindi non Non credo Che livelleremo Se si spiegherà Il caricamento Sperando che non Mi butta fuori Dalla partita Oh no no Ti prego Dimmi di no Dimmi di no Che è successo Sì Mi hai fatto entrare In partita E vai Ok Eh ma vaffanculo Non ci capiscono Un cazzo Questi che giocano Con me Vaffanculo Ma quanti stiamo Ah 4 Meno male E Sono anche Accorto di armi Vaffanculo Eh no Di armi Di proiettili Scusate Eh Vabbè Quello là Lo useremo dopo Alist No Alistante Mi si chiama Mi si chiama Dai io me lo devo Prendere perché Mi servono a me Grazie al cielo Grazie al cielo Mi restavano pochi colpi Eh no No Però aspettiamo Che devo attivare Il tenere Ho già attivato Attiviamo anche Quel coso là Eh Attiviamo anche Quello Già che ci siamo Vediamo un pochino Quella mia Eh sì Torniamo alle sembianze Umane Dai Bravo Ma io ho quello di prima Eeeh Oh Ho 500 Quindi posso prendermi Questa Un fancolo Oddio Mi si è già fatto Rituale Poi non so Che cosa serve Rituale Vabbè Eeeh Dove è Dove è Lo zombie Dove sei Zombie Zombie Dove sei Aspettate Prendiamo Questo coso qua Ah no Già l'hanno preso Sì l'hanno già preso Non mi è apparso niente Di scritta Quindi non so se l'hanno preso Qua Ok No 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 Adesso Fraps Mi farà un video Di 100 giga Porca vaffa Quanto va la commissione Ah e si è anche uscito Quello stronzo Lo stronzo è uscito Quindi siamo in tre Vaffanculo Oh Oh Oddio Ha toccato anche la mimetica È bella Ok può bastare Qui Peccato che non si possono unire altre persone Ma se ne possono solamente andare Se no Cavolo In tre È difficile Molto molto difficile Boom Come facciamo a rimettere tutto a posto Prendi scopa E paletta E rimetti tutto a posto Allora Oddio Che calo di frames All'istante Era il mio Stronzo Questo è il mio territorio Dicelo Eh Oh Il mio Oh mio Dio Ma come si fa Avri questo cancello Vai Lo avrò io Tirchio di merda Sia possibile Allora Prendiamo Il coso brutto Qua Allora Qua Spaffiamolo Lì Diamo gli Corrente Yeah Yeah Lì Rompiamo Dove Possiamo anche Attivare il portale Sì abbiamo finito Torniamo alla simbiazze Come si torna Ah cerchio giusto Mi ricordo è sulla pera Guarda la tua Poi boh Non so No ancora non ho 900 punti Ecco adesso ce l'ho Questa cos'è la statua di Harry Potter Quando utilizziamo l'humos No Ma dov'è quel cazzo di cosa Aspettate Dio un po' se Da un'altra parte Oddio Yes Io non ho ancora capito che cazzo Sono sti cosi Oh No Brut Questa sega di merda Vienimi a curare Frocia E Ghe E Muff No mi do assolutamente Bere con la cazzarola di pozione Perché No la pozione Ma chi c'è sta Lasciala aperta Che belle gambine Dai Mettiamo le sbare qui Allora Devo arrivare 1500 Per prendermi la La cosa Eh Però dopo E devo pure Prendermi un'arma Vaffanculo Ma intanto Apriamo qui E no Non posso nemmeno Mamma mia Quanto cazzo Cosa Non vorrei aprire le porte Oh Che è successo Ho visto solamente Uno zombie Esplodere Vediamo un po' Vediamo un po' Vediamo un po' Cos'esce Un escremento Questo è mio Grazie L'ho preso subito al volo Dammi E se usassi Una forza Adeguata Connessione De merda Mannaggia la puttana Sì sì Prendi questa cazzo Ah 700 Non sono certo Che bere Sia stata Una grande idea Oh Oh Sono abituato A scoprire All'introvviso Qualcosa di utile Oh Preva Presto Ballerò Sul tuo Piero Cazzo Questo si deve Attivare come Non so Oddio Oddio Sia connessione Di merda No L'affanculo Beccano in testa L'affanculo Schifoso Preva Merda Non voglio perdere tutte le armi Non voglio perdere Grazie 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 No L'ho usato Ho spiegato Mannaggia Cosa sta succedendo Oddio Che è successo No Sto coso di gigante Aspetta Oh Oddio 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 Ma questo sale pure le scale Dove cedere senza combattere Madonna Oddio Non è niente di meglio da fare Sì No No Non è niente di meglio da dovere Sfanculo Eh Mannaggia Niente Sfanculo Eh Vabbè E vabbè Comunque ragazzi Abbiamo sbloccato Questa nuova Bellissima Mimetica Io Vi saluto Ragazzi Così Noi ci rivediamo In un prossimo video Sennò Il video diventa 50 giga Veramente Eh Vi saluto ragazzi Noi ci vediamo In un prossimo video Ditemi se vi piace Questa serie Che continuo a portarla Su zombie Anche multiplayer Nella prossima E bella a tutti ragazzi Ciao Ciao